Qui in Ticino siamo più di 1.500 aramaici. Le nostre famiglie sono scappate all'inizio degli anni Ottanti. Come posso dire che sono aramaico se non ho mai visto la mia terra d'origine? Per me è importante vedere se quei luoghi sono così come me li descrivevano i miei genitori, i miei zii, se corrispondono a quello che mi sono sempre immaginato sin da piccolo. Grazie per la visione!